Can Yaman, emerso dal mondo televisivo turco e diventato un fenomeno internazionale, ha un'ampia base di fan non solo per la sua recitazione ma anche per il suo fascino impressionante. Yaman, uno dei nomi più sorprendenti sullo schermo con la sua bellezza, il suo atteggiamento carismatico e il suo stile elegante, si è dimostrato nel tempo non solo come attore ma anche come icona di stile e fascino. Da dove nasce allora il fascino affascinante di Can Yaman e quali sono gli elementi che lo rendono così unico? Una delle caratteristiche più distintive che costituiscono la base dell'attrazione di Can Yaman è il suo aspetto fisico impeccabile. La sua struttura corporea atletica gli conferisce l'immagine di un eroe moderno. Questa struttura fisica, plasmata dalla sua passione per lo sport, riflette il suo stile di vita sano e mette sempre in risalto la sua energia dinamica. Caratteristiche facciali marcate, la mascella forte e gli zigomi prominenti aggiungono fascino sia maschile che estetico al viso di Yaman. Occhi espressivi, il suo sguardo scuro e profondo porta il suo carisma a un livello superiore. I suoi occhi hanno un effetto magico che attira lo spettatore durante una scena sullo schermo o una fotografia. Armonia tra capelli e barba, i lunghi capelli di Can Yaman e la barba accuratamente modellata completano la sua immagine somigliando a un moderno alfa. Questo look crea un fascino versatile, creando un'impressione che è allo stesso tempo feroce e romantica. Il fascino di Can Yaman non deriva solo dalle sue caratteristiche fisiche naturali. Il fatto che faccia la differenza con ogni outfit che indossa e attiri l'attenzione con il suo stile unico la rende una vera icona della moda. Si adatta facilmente a qualsiasi stile, dagli abiti classici allo street style casual. Eleganza moderna, gli abiti di buon taglio, che Yaman preferisce spesso negli eventi sul tappeto rosso, lo aiutano a ritrarre un'immagine seria ed elegante. Abbinamenti sport chic, le giacche di pelle, le t-shirt e i jeans che preferisce nella vita quotidiana gli regalano un'atmosfera ribelle e libera. Accessori audaci, un altro elemento che differenzia lo stile di Can Yaman sono le sue scelte di accessori audaci. Grandi collane, bracciali e anelli aggiungono un tocco forte al suo stile. Can Yaman attira l'attenzione non solo con il suo bel aspetto ma anche con la sua impressionante interpretazione. Yaman, che ha guadagnato un'ampia base di fan con i suoi ruoli in serie tv come Erkenchikus, Full Moon e E.B.False, riesce a creare un fascino diverso in ogni personaggio. Eroe della commedia romantica, è diventato una delle star indispensabili del genere della commedia romantica interpretando un personaggio comprensivo e appassionato nella serie tv Erkenchikus. Il suo successo in questo genere deriva dalla sua capacità di creare una connessione divertente ed emotiva. Ruoli d'azione e drammatici, Can Yaman ha mostrato una direzione di recitazione diversa prendendo parte a progetti d'azione e drammatici negli ultimi anni. Le sue ottime prestazioni fisiche in progetti come Sandokane dimostrano che non è solo un eroe romantico, ma anche il volto ricercato dell'azione. Il successo ottenuto nella recitazione dimostra che Yaman non è solo un ebel viso, ma anche una star con il suo talento. Un'altra dimensione importante del fascino affascinante di Can Yaman è il legame caldo e sincero che instaura con i suoi fan. Anche se è una star internazionale, attira l'attenzione con il suo atteggiamento modesto e la sua energia positiva. Le risposte sincere che da nelle sue interviste e la frequente espressione del suo amore per i suoi fan e i suoi post sui social media gli permettono di connettersi facilmente con le persone. Inoltre, il suo lavoro filantropico e i suoi contributi alla società sono tra i fattori che aumentano il suo fascino. Il suo ruolo attivo in progetti di educazione e responsabilità sociale dimostra che non è solo una star ma anche una persona sensibile. Il fascino di Can Yaman è direttamente legato al suo stretto legame con lo sport. L'impegno che fa per mantenersi in forma si riflette non solo nel suo aspetto fisico ma anche nel suo umore. Yaman trasferisce l'energia e la disciplina che prova mentre fa sport in ogni aspetto della sua vita e ispira i suoi fan con questo aspetto. Routine quotidiana, Yaman, che svolge regolarmente varie attività come sollevamento pesi, corsa, sport da combattimento ed esercizi di stretching, attribuisce grande importanza alla sua salute fisica e mentale. Il fascino di Can Yaman ha già oltrepassato i confini della Turchia. L'attore, che ha una vasta base di fan soprattutto in Italia e Spagna, è diventato un'icona in Europa con i fan meeting che ha organizzato qui e i programmi televisivi a cui ha partecipato. Il suo interesse per i progetti internazionali gli ha permesso di diventare una star globale. La partecipazione a produzioni ad alto budget come Sandokane è uno degli indicatori più importanti del fatto che Yaman sia diventato un nome di fama mondiale. Can Yaman è una figura molto attiva anche sui social media. Con milioni di follower, i suoi post attirano sempre grande attenzione. Cattura l'attenzione dei suoi fan condividendo spesso foto scattate mentre fa sport, sul setto in vacanza. Inoltre, la sua posizione sicura di sé sui social media aggiunge una nuova dimensione alla percezione della mascolinità moderna. Questa presa di posizione, che può essere sia potente che emotiva, rivela chiaramente perché Yaman suscita così tanta ammirazione. Can Yaman ispira milioni di persone non solo con il suo bel aspetto, ma anche con la sua disciplina lavorativa, i suoi talenti e la sua visione della vita. Il suo fascino combinato con una sicurezza intrinseca crea una personalità versatile che impressiona i suoi fan in ogni modo. Questo fascino affascinante rende Can Yaman non solo una star, ma anche una figura iconica dei tempi moderni. Non c'è dubbio che si farà un nome nei suoi progetti futuri. La sua energia, carisma e grazia continueranno a essere fonte di ispirazione per molti anni a venire. La sua energia, carisma e grazie a tutti. La sua energia, carisma e grazie a tutti. La sua energia, carisma e grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.